Dopo tre mesi e mezzo ci risiamo. Da questo lunedì tutta la Toscana torna in zona rossa. L'ultima volta era stato il 6 dicembre dell'anno scorso. Da allora a conoscere il livello più severo di restrizioni erano stati eventualmente comuni o province laddove i numeri del contagio si mostravano più preoccupanti. Per primo era toccato al comune di Chiusi il 7 febbraio scorso ma da lì in avanti la cartina della regione non aveva fatto altro che riempirsi di punti ossi sempre più estesi fino all'inevitabile epilogo ufficializzato venerdì. Dunque si torna al lockdown con le regole più stringenti in tanti capitoli della vita quotidiana a cominciare dalla scuola dall'asilo nido alla quinta superiore tutti a casa e dalla prima elementare in su lezioni in dad. Solo gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali potranno continuare ad andare in classe e restano in presenza anche le attività che non possono svolgersi se non con l'uso di laboratori. Queste regole tuttavia cambieranno anche in zona rossa dopo le feste di Pasqua quando gli studenti fino alla prima media potranno tornare alla lezione in presenza come previsto dal nuovo DPCM. Per quanto riguarda gli spostamenti il concetto generale resta quello delle uscite da casa solo per acquisti o necessità legate al lavoro salute o assistenza ad anziani o minori non autosufficienti. Ci si potrà muovere anche per raggiungere le seconde case se proprietari o affittuari da prima del 14 gennaio di quest'anno. Vietate le visite ad amici e parenti eccezione fatta per una singola visita giornaliera concessa nei giorni delle festività pasquali 3, 4 e 5 aprile. In ogni caso non potranno andare più di due persone in casa altrui restano fuori dal conteggio ai minori di 14 anni. All'interno di bar e ristoranti restano vietate le consumazioni. L'asporto è consentito a tutti fino alle 18 fino alle 22 solo a ristoranti e negozi di bevande. Sempre ammessa la consegna a domicilio barbieri parrucchieri e centri estetici chiudono come tutte le altre attività classificabili come servizi alla persona. In generale resteranno aperti soli negozi che non vendono bene i considerati essenziali chiuse anche mostre e musei così come palestre e piscine. Gli sportivi potranno fare jogging o correre in bicicletta purché da soli distanti dagli altri e nei pressi della propria abitazione. Restano sospesi gli sport di contatto a meno che non siano all'interno di competizioni sportive d'interesse nazionale. Non cambia nulla invece per le funzioni religiose. Le messe continueranno in presenza rispettando le distanze. Invariati anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e l'obbligo di indossare sempre la mascherina fuori casa.